Allora Giussi, siamo la Polonia, certo, qui c'è l'Europa, certo, Marco, ora andiamo a visitare Varsavia, ok, andiamo, eccoci qui, oh, guarda, c'è la sirena simbolo di Varsavia, l'hai visto? Sì, l'ho visto, Marco, andiamo alla chiesa del seminario, ok, andiamo, ok, ora possiamo entrare alla chiesa del seminario, certo, entriamo, wow, questo posto stanno festeggiando un matrimonio, certo, ascoltiamolo, ok, è stato molto bello visitare Varsavia. Grazie. 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 Grazie.